Hola chicos, benvenuti sul mio canale di YouTube, ciao ragazzi, benvenuti al mio canale di YouTube, io sono Julia, sono Giulia, se ancora non mi conoscete questo è il primo video che vedete, mi presento e in questo video vorrei presentarvi e parlarvi dello numeros ordinales, quali sono i numeri ordinales, quelli che danno un ordine primo, secondo, terzo, quarto e via dicendo. Li vedremo in generale e ci sarà anche un piccolo esercizio finale per voi, quindi vi consiglio di prendere carte e penne ed essere prontissimi per ascoltare questo video, imparare i numeri ordinali insieme a me e andare a vedere quali sono le loro particolarità. Chi già mi conosce lo sa che prima di cominciare io vi chiedo due cose, la prima è di iscrivervi a questo canale di YouTube se ancora non l'avete fatto, così mi aiutate anche a sostenere il mio lavoro se vi piacciono questi video e soprattutto di venire su Instagram alla pagina school2you underscore milan dove l'apprendimento continua nelle storie e se magari guardate uno dei miei video e volete taggarmi mentre studiate, io poi vi ricondivido anche nelle mie storie così facciamo vedere anche agli altri che state studiando e diamo un incentivo a tutti per mettersi a studiare, in questo caso, los numeros ordinales. Un'ultima cosa importante che vi voglio altresì dire è che se volete dare una svolta al vostro spagnolo imparare la grammatica passo dopo passo, vi lascio in descrizione a questo video i miei video corsi che vi accompagnano dal livello base a un livello pre-intermedio di spagnolo. Ho detto tutto e adesso è tutto pronto per vedere los numeros ordinales, andiamo a vedere come si scrivono, più che come si scrivono, come si pronunciano. Los ordinales abbiamo dal primo al decimo e si scrivono così Li ripeto E come si comportano questi numeri ordinali quando accompagnano un sostantivo si comportano in questo modo, ovvero concordano sempre in genere, quindi maschile, femminile e in numero, singolare e plurale, con il sostantivo a cui si riferiscono. Come due esempi che vi ho proposto, ovvero la biblioteca sta in la primera planta, ovvero la biblioteca si trova, in quanto in italiano abbiamo al primo piano, in spagnolo e femminile, e sta nella primera planta, quindi al primo piano si dice la primera planta, o maschile plurale, los primeros amores nunca se olvidan, una frase romantica, i primi amori non si scordano mai. E se avete fatto attenzione, io su primero e terzero avevo messo un piccolo asterisco, voi sapete che quando ci sono gli asterischi c'è sempre qualcosa in più da scoprire. E andiamo a vedere infatti questi asterischi a cosa si riferivano nello specifico. Si riferivano al fatto che quando primero e terzero precedono un sostantivo maschile, e solo ed esclusivamente un sostantivo maschile singolare, perdono la O finale, prima del sostantivo, per esempio, Prima di mostrarvi i prossimi numeri ordinali, quindi dal 11 in avanti, vorrei mettere le mani avanti, ho detto già in avanti, dicendo che in realtà i numeri più utilizzati ordinali sono proprio i numeri da 1 a 10, perché spesso capita in spagnolo che dall'11 in poi utilizzino i numeri cardinali classici, per esempio dicono, non so se volessi dire al dodicesimo piano, dicono alla planta dose, numero dose. Tuttavia ci possono essere dei contesti, magari se vogliamo indicare una competizione, una gara, a dire siamo arrivati dodicesimi, utilizzeremo invece i numeri ordinali che sto per mostrarvi. Preparatevi perché sono un pochettino più bruttini di quelli precedenti. Inizierei dal numero 11 che si dice, si può dire in due modi, un decimo o anche decimo primero, dodicesimo, duodecimo o decimosegundo. Invece il tredicesimo è decimotercero, poi abbiamo decimo quarto, decimo quinto, decimosexto, decimoseptimo, decimottavo e decimo noveno. Quindi un decimo o decimoprimero, duodecimo, decimosegundo, decimotercero, decimquarto, decimquinto, decimosexto, decimoseptimo, decimottavo, decimino noveno. Mi avevo detto che erano bruttini, però a parte un decimo, duodecimo, gli altri sono semplici. Quindi decimo più mettiamo terzero, quarto, eccetera, abbiamo già visti nelle unità precedenti. Quelli che sì, sono ancora più bruttini onestamente, sono quelli dal 20 in avanti. Quindi, poi vi dico anche in una slide come si comportano quando sono composti, per dire 28, 29, 37. E adesso andiamo a vedere dal 20 al 90. Ventesimo si dice vigesimo, poi abbiamo trigesimo, quadregesimo, cinquagesimo, sexagesimo, septagesimo, octagesimo, nonagesimo. E come vi dicevo poco fa, per comporre i numeri composti, un giro di parole, è sufficiente aggiungere alle decine e l'unità. Trichesimo, septimo, per dire trentasettesimo, o anche separatoro, trichesimo, septimo. E infine, ma non per importanza, non potevo non dirvi come si diceva centesimo. Bene sì, non è difficile, si scrive quasi come in italiano, c'è un accento sulla seconda E e la pronuncia è centesimo. E ora io ho preparato un piccolo esercizio di dettato, di ascolto, per familiarizzare con questi nomi particolari, con questi numeri particolari, e quindi andiamo bene ad ascoltare nella prossima slide i numeri che proporrò, provate a scriverli su un foglio e poi vi mostro le soluzioni. Ascolta i numeri ordinali in questo dettato e trascriverli in cifra. A. Cuadragésimo quinto, cuadragésimo quinto. B. Duodécimo, duodécimo. C. Trigésimo, trigésimo. D. Sexto, sexto. E. Nonagésimo, noveno. Nonagésimo, noveno. F. Sexagésimo, séptimo. Sexagésimo, séptimo. G. Octogésimo, octavo. Octagésimo, octavo. H. Décimocuarto. Décimocuarto. I. Quincuagésimo, quincuagésimo. J. Décimo, séptimo. Décimo, séptimo. K. Primero, primero. L. Vigésimo quinto, vigésimo quinto. M. Octogésimo, octogésimo. N. Quinto, quinto. E ora scopriamo insieme le soluzioni di questi numeri un po' particolari. E. Eccole qua. Ed erano Quadragesimo quinto. Quadragesimo quinto. La B invece era duodecimo, o decimosegundo, se volevate. Quadragesimo quinto, la C invece è trigésimo, la D è sexto. E la E era nonagésimo noveno, novantanovesimo. F. Sexagésimo, séptimo. G. Octogésimo, octavo. H. Decimocuarto. I. Quincuagésimo. È la più difficile, cinquantesimo. Quincuagésimo. J. Decimosettimo. K. Primero. L. Vigesimo quinto. M. Octogésimo. E in ultimo N. Quinto. Come è andata? Vi ho fatto esplodere i neuroni, il cervello e le orecchie perché hanno dei nomi incomprensibili. E sono sincera, io non ho tutta questa praticità nei numeri, spero di non aver fatto nessun errore tra una slide e l'altra. Ho cercato di impegnarmi perché onestamente si utilizzano non tantissimo, però sicuramente dal primo al decimo è proprio importante conoscerli e ricordarsi la regola che vi ho detto poco fa, che primero e tercero, davanti al sostantivo singolare, perdono la O per poi appunto anticipare il sostantivo maschile singolare. E entonces, e quindi per questo video è tutto. Io vi aspetto su Instagram alla pagina SculptuU underscore Milan, dove l'apprendimento continua e dove se volete taggarmi mentre studiate lo spagnolo vi ricondivido nelle storie. E se invece non avete Instagram, poco male, ci sono anche su Facebook, su Telegram, ma soprattutto vi aspetto all'interno dei miei videocorsi di spagnolo, dove veramente li vi accompagno passo dopo passo alla scoperta della lingua spagnola, attraverso tutte le possibili e immaginabili lezioni di grammatica che possono servire per raggiungere il livello A2. E quindi, come sempre, io os agradezco molto e lo voglio fare in spagnolo, per lo tanto, moltissime grazie per vostra attenzione e... ¡Hasta luego! Ciao! Adios! Adios!